Né la grandine, né la pioggia, né la neve riescono ad impedire al piccione Yankee Doodle di compiere la sua missione, ma alto nei cieli lo squadrone avvoltoi di Dick Dastardly è deciso a tentare, questa volta con il bizzarro congegno di Klunk, sbattitore d'uovo gigante, l'operazione Piccione Strapazzate. Aha, guarda chi si vede, quel tristo piccione testa di legno. Ora spingiamolo nel diabolico sbatti uova gigante. Sta andando dritto, dritto nella trappola. Ehi Club, accendi l'aggeggio a tutta velocità. Vienilo, vienilo. Mattry, fa qualcosa. Oh mamma, oh mamma mia, mi fa impressione, guarda da dare. Prometto che ti do una medaglia Mattry, due medaglie. Che bello, ragazzi, che bello, che bello. Come non detto Mattry, sei arrivato in ritorno. Accidenti a tutti voi, non riuscite a rompere un uovo, figuriamoci se prendete il piccione. Sì, pronto, signor generale? Sì. Come ho detto oggi? Il generale ha detto che sta venendo qui adesso. Vuole vedere personalmente il piccione. Catturato. Che facciamo? Come vuoi che faccia a saperlo? Nulla di quello che abbiamo tentato finora ha funzionato. Ebbè, non startene lì impalato, clunk. Inventa qualcosa subito. Bene, capo. Possiamo... Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Beh, se proprio non riusciamo a catturare il piccione Yankee Toodloo, possiamo almeno mostrare al generale questo piccione sostituto. Ricordatevi bene, io devo ritornare all'agenzia illeso e scritto nel contratto. Clunk, sono costretto ad ammettere che questa idea nata dal tuo cervello di gallina può funzionare. Operazione piccione a spezzatino. Lo tagliuzzerò e poi lo caccerò dentro il nostro polverizza piccione. Clunk, Jenny, ora! Eh? No! Accidenti! Oh, oh, il generale è qui e non abbiamo nessun piccione Yankee Toodloo. Su, avanti, sostituto, è il momento di recitare la tua parte. Non per bantarmi, ma ero magnifico in bianca leva e i sette piccioni. Iuh, generale! Ecco il piccione Yankee Toodloo. Guardi, ora se ne può andare, eh? Grazie, generale. Lo metterò subito al sicuro in catene. Buon viaggio di ritorno. Mambi subito, l'assegno al mio agente, prego. Oh, no! Ma chi era quel ridicolo attore privo di talento? Eh, 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 sì, sì, lo so, generale. Scasca, è scappato, ma lo riacchiapperemo in un battivaleno. E attento, capo, vado in straordinario. Um... Grazie.